Superati i vincoli di natura legale con la collaborazione dell'avvocato Monica Ragone, l'amministrazione comunale di Salerno e Salerno Pulita, la società che si occupa della raccolta differenziata, possono puntare sulla installazione delle fototrappole itineranti per combattere l'abbandono indiscriminato di rifiuti. Le telecamere, dall'evocativo nome di e-killer, segnalano gli aumenti di volumetria con un specifico alert, avviando quindi il controllo e l'identificazione dell'autore dello scarico indiscriminato di spazzatura. La conferenza stampa, nella quale il sindaco Vincenzo Napoli, l'amministratore unico di Salerno Pulita Enzo Bennett, con l'assessore all'ambiente del comune di Salerno Massimiliano Natella, il comandante dei vigili urbani Rosario Battipaglia, presente anche il capitano Mario Elia, la guida del nucleo specifico per i controlli ambientali, hanno presentato tutti i dettagli delle fototrappole che saranno itineranti e posizionate in punti strategici, è stata anche occasione per ricordare che abbandonare i rifiuti è un reato penale, per il quale oggi si rischia una sanzione fino anche a 1000 euro. Noi nel rispetto totale della privacy faremo in modo che chi sbaglia paghi, quindi privacy ma molte per chi lascia rifiuti in un modo irregolare. Abbiamo il corpo della Polizia Municipale che da questo punto di vista ci supporta, il capitano Mario Elia che è un ufficiale di grande esperienza, seguirà personalmente questi aspetti e quindi con queste nuove tecnologie noi garantiremo la vita difficile a chi intende sbagliare. Presidente, hai sottolineato che chi abbandona rifiuti oggi rischia una sanzione di natura penale. Sì, dal 10 ottobre 2023 la nuova norma prevede che non sia più una sanzione amministrativa l'abbandone del rifiuto ma un'ammenda penale con un minimo di 1000 euro che si raddoppia nel caso di abbandono di rifiuti pericolosi. Come ho detto, ho ascoltato con attenzione l'intervista del procuratore, bisogna avviarsi verso la videoserveglianza, non possiamo pretendere di avere forze dell'ordine piuttosto che polizia municipale dietro ogni cittadino, insomma dietro quei cittadini che non rispettano il decoro, non rispettano l'ambiente che a Salerno fortunatamente si stanno riducendo in maniera sensibile.